Le indagini della procura distrettuale antimafia di Venezia che prendono avvio dopo la consegna degli atti da parte dei colleghi di Treviso con l'ipotesi di terrorismo e le foto pubblicate dal gazzettino dei due ordigni posizionati sulla scala antincendio del K3, sede provinciale della Lega Trevisiana, la pentola a pressione piena di bulloni pronta a esplodere sul pianerottolo dove solo per un caso, lunedì sera, i quattro militanti che si sono riuniti a Fontane di Villorba per pianificare la festa del carroccio di fine settembre non sono usciti a prendere una boccata d'aria come spesso accadeva e quel che rimane della bomba carta fatta esplodere ancora sabato mattina ordigni che per gli esperti sono pienamente compatibili con le modalità delle cellule anarchiche come quella che sul web ha rivendicato l'attentato e che farebbe parte della federazione anarchica informale. Al K3, dopo la pausa di Ferragosto, si ricomincerà la consueta attività ma con una consapevolezza e un'attenzione diversa. Adesso c'è da guardarsi un po' in giro, ma non solo nella sede della Lega ma anche in altre parti perché se è preso di miro, faccio per dire, un gruppo politico, un gruppo politico può essere in qualsiasi posto o altro. Mi dispiace che non ci sia un confronto, una dialettica sulle discussioni ma ci sia proprio questa opera definitiva giustamente di terrorismo perché far male le persone, questo penso sia l'ultima cosa che uno possa fare perché torniamo indietro negli anni di piombo e questo non va bene perché una democrazia che si è costruita con delle persone che sono morte e che hanno dato la loro vita proprio non va bene. Giuseppe Canova era qui lunedì sera e tra quelli che hanno rischiato di incappare nell'ordigno ma si dice tranquillo. Siamo sereni, sereni che sia a Roma sia nel territorio stiamo facendo un lavoro importante e del cambiamento e magari è questo che a questi signori disturba però noi andiamo avanti per la nostra strada in serenità.